Ad Ispani la campagna elettorale entra nel vivo. Sabato il gruppo Siamo Ispani ha inaugurato la propria sede e sancito ufficialmente la costituzione di un nuovo soggetto politico, nato dopo la sfiducia alla sindaca Marilinda Martino e postosi come alternativa ad essa. In questa occasione è stato ufficializzato il candidato a sindaco del gruppo, sarà Francesco giudice l'ex braccio destro della Martino che per dieci anni ha ricoperto già il ruolo di vice sindaco prima di aprire la crisi con altri compagni di maggioranza qualche mese fa e proprio per la sua esperienza, la concretezza, la capacità di stare vicino alla gente del suo comune il gruppo ha deciso di affidarvi la guida della compagine secondo quanto raccontato dallo stesso giudice che affiancato da compagni e sostenitori ha delineato motivazioni e linee programmatiche di Siamo Ispani. Il nostro è un gruppo solido ha detto con tante idee e soprattutto giovani, impronteremo la nostra campagna elettorale sui contenuti e non sulle chiacchiere, ringrazio chi ha deciso di scegliermi come capogruppo, vuol dire che il lavoro da me svolto in questi dieci anni non è passato inosservato. La lista non è stata ancora resa pubblica ma al fianco di giudice si sono visti alcuni esponenti della vecchia maggioranza come Amerigo Pierro e Antonio Altomonte, della passata opposizione, Lovisi, Avaiano e Pecorelli e alcuni volti nuovi. Si tratta di un gruppo giovane, l'età media è di 42 anni che ha fatto dell'appartenenza di Spani la sua bandiera essendo composto da persone che sono nate e vivono lì da sempre. Intanto si attende di conoscere la compagine avversaria. La sindaca uscente Martino è intenzionata a correre ancora una volta con un gruppo che unisca competenze e idee nuove e che per questo sarà composto da esponenti della precedente amministrazione a lei rimasti fedeli e cinque nuovi ingressi.